ciao ben ritrovati allora andiamo a vedere con questo interattivo che cosa ti accadrà a breve ok quindi andiamo a vedere prima nell'ambito del lavoro e delle finanze e poi nell'ambito dell'amore e delle relazioni più in generale no quindi partiamo subito con le energie vediamo per quanto riguarda il lavoro e le finanze da quale energia partiamo faccio un'unica variante quindi è una variante che riguarda ovviamente il collettivo ma ovviamente sicuramente anzi in base ovviamente alle vostre situazioni personali ci sarà un messaggio che vi risuona ok quindi vediamo per la collettività come sono le energie per quanto riguarda il lavoro e le finanze a breve la stella abbiamo beh bellissima carta allora la stella è la carta proprio di qualcosa che si avvera di qualcosa che si realizza di qualcosa che affine a noi quindi con la stella probabilmente molti di voi nell'ambito lavorativo e anche nell'ambito delle finanze avranno delle belle sorprese nel senso che magari non riuscite a fare quel lavoro che finalmente desideravate fare oppure iniziare un progetto che magari non partiva da tempo oppure cambiare mansione nell'ambito di un lavoro che avete già una mansione a cui aspiravate insomma oppure avere più entrate economiche ok quindi insomma è diciamo nell'ambito del lavoro e delle finanze sicuramente questa è una bellissima carta ok quindi a breve molti di voi finalmente vedranno proprio realizzarsi un qualcosa a livello concreto e materiale a cui aspiravano andiamo a vedere adesso più nello specifico con altre tre carte abbiamo 10 di denari il cavaliere di spade la regina di spade fondo mazzo asso di bastoni bene allora qui effettivamente c'è proprio qualcosa che sta per arrivare e che si concretizza abbiamo innanzitutto un 10 di denari che quindi va a suggellare no quello che vi ho detto prima e cioè una stabilità una nuova stabilità a livello lavorativo e anche a livello economico e qui con questo cavaliere di spade e questa regina di spade per molti di voi innanzitutto ci sono ci saranno delle proposte da magari più persone ok c'è chi magari avrà una proposta da una figura maschile chi magari avrà una proposta da una figura femminile per quanto riguarda il lavoro oppure ci sono proprio nuove collaborazioni ok che portano a questa nuova stabilità a questa nuova vita materiale ok che va proprio a realizzare come dicevo prima quello che è un vostro desiderio con la stella l'asso di bastoni a fondo mazzo questo naturalmente è un nuovo inizio quindi c'è un nuovo inizio a fine a quello che molti di voi desideravano ok in ambito lavorativo ma anche ripeto un nuovo inizio anche magari dal punto di vista delle entrate economiche cioè magari molti di voi finalmente vedono che qualcosa sta cambiando anche a livello economico fatto sta che qui per molti di voi c'è proprio un cambiamento molto in positivo e soprattutto che riguarda qualcosa a cui voi aspiravate ok quindi un comunque un qualcosa che realizza un po' il vostro potenziale che realizza un po' quello che siete veramente voi quindi belle carte per quanto riguarda il lavoro e le finanze e adesso andiamo a vedere l'amore e le relazioni allora andiamo a vedere per quanto riguarda l'amore e le relazioni cosa ti accadrà a breve vediamo quindi le energie del collettivo ma come ho detto prima ci sarà sicuramente qualcosa che vi risuonerà ok allora innanzitutto andiamo a vedere da quale energia partiamo quindi le energie che caratterizzerà l'energia che caratterizzerà appunto la sfera affettiva no dell'amore e delle relazioni a breve allora vediamo abbiamo la luna allora qui la luna è sempre qualcosa che ha bisogno un po' di fuoriuscire no soprattutto se parliamo di relazioni e di relazioni insomma sentimentali affettive io ovviamente si tiene conto di tutti i tipi di relazioni no poi andiamo a vedere poi più nello specifico però sicuramente a breve c'è qualcosa che secondo secondo la luna secondo questa carta verrà a galla no quindi più o meno non è detto che sia per forza qualcosa di di grave o di o di o di tremendamente brutto cose del genere però sicuramente c'è un bisogno di chiarire qualcosa di portare alla luce qualcosa ok nell'ambito delle relazioni sia che si tratti di sentimenti cioè di relazioni diciamo sentimentali sia che si tratti di rapporti anche fra amici fra parenti e insomma qualsiasi tipo di relazione affettiva andiamo a vedere adesso con altri tre tarocchi abbiamo il 5 di denari l'asso di bastoni l'appeso fondo mazzo l'eremita allora sì per quanto riguarda le relazioni quindi a se per ogni per qualcuno sarà in ambito sentimentale per altri magari in ambito familiare e per altri in ambito dell'ambito delle amicizie qui c'è bisogno di verrà fuori qualcosa no verrà la luce qualcosa che frenerà un po' un po' quello che è stato un po' una frequentazione sia a livello di amicizia a livello sentimentale e ma anche a livello familiare e resterà un po' una situazione in sospeso perché questa cosa che verrà alla luce vi lascerà un po' con questo 5 di denari e l'appeso sul innanzitutto prenderete mi viene da dire un po' le distanze perché abbiamo a fondo mazzo l'eremita ok quindi vorrete capire bene con l'eremita questa situazione qui c'è una situazione affettiva che per voi non è chiara ok e quindi nel breve periodo questa situazione la valuterete a distanza ok perché è come che abbiate con questa luna delle percezioni ok su questa situazione ripeto che può essere sentimentale quindi di coppia o anche per il single magari una frequentazione iniziale no che appena iniziata oppure in ambito familiare oppure con un amico con un'amica insomma c'è qualcosa che non vi convince no e magari viene e c'è qualcosa che verrà fuori ok questo questa cosa che magari voi percepite e che verrà fuori vi porterà naturalmente a prendere le distanze cioè isolarvi un attimo da questa situazione e cercare quindi di vedere le cose da un altro punto di vista ok quindi prenderete le distanze ok molti di voi prenderanno le distanze da una situazione affettiva perché c'è qualcosa che non vi convince dell'altra persona e e probabilmente avete avrete ragione anzi sicuramente avrete ragione perché dopo questa questa energia della luna quindi queste percezioni che voi avete viene fuori cinque di denari quindi avrete la conferma quindi la delusione no che c'è qualcosa che non non fa per voi con questa persona ripeto che può essere un partner fisso può essere un inizio di frequentazione per i single può essere in ambito familiare può essere un amico o un'amica quindi queste sono le energie a breve per quanto riguarda le situazioni affettive in generale ok quindi vi isolerete adesso non dico sul cocuzzolo della montagna ma da questa situazione cioè prenderete le distanze per capire bene eventualmente come gestire questa situazione se proprio non è detto che tutti chiudano questa situazione non c'è una chiusura qui però c'è una una presa di coscienza e anche una proprio una presa di posizione in maniera più distaccata proprio per valutare bene e questo eventuale asso di bastoni questo inizio no che c'è stato ma che appunto è un po' in discussione da parte vostra ok bene queste sono le energie quindi per quanto riguarda che cosa ti accadrà a breve io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao